Yasser Abdel Zaid e i crimini violenti che commetterà lo hanno portato a far parte della lista dei più ricercati dell'FBI. Inseguendo il sogno americano, il suo comportamento inquietante e preoccupante è iniziato quasi subito dopo essere arrivato negli Stati Uniti. Ma con il passare del tempo e il suo atteggiamento rimasto completamente incontrollato, la sua arroganza lo ha portato a commettere delle azioni veramente inquietanti che vanno ben oltre, amici, l'omicidio stesso. Ma cosa ha fatto precisamente Yasser Abdel Zaid per arrivare ad essere considerato uno dei criminali più ricercati da parte dell'FBI? Ciao a tutti amici e benvenuti a Giada Crime. Se vi piacciono le storie true crime, beh, siete nel posto giusto, quindi vi consiglio di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina. Oggi vi racconto lo scioccante caso di Yasser Abdel Zaid. Per il caso di oggi, amici, ci troviamo esattamente in Texas e il Texas è proprio la patria dei cowboy e del Tex-Mex. E con quasi 30 milioni di persone che chiamano questo posto casa, dovete sapere che il Texas ospita anche il centro di controllo delle missioni di Houston per la NASA. La frase, infatti, Houston, abbiamo un problema, è stata proprio immortalata durante la sfortunata missione di Apollo 13 e quasi tutti gli altri lanci, sempre della NASA, sono partiti proprio dal Texas. Ma per la storia di oggi ci concentriamo ad Irving, situata invece nella contea di Dallas. Con la città che vanta una popolazione attuale di poco meno di un quarto di milioni di persone, è una delle città in più rapida crescita e con un'economia molto ma molto solida. Una delle famiglie che vive nella periferia di Irving è la famiglia Said, composta da Yasser Abdel Zaid e da Patricia. Yasser Abdel Zaid nasce il 27 gennaio del 1957 a Sanae in Egitto. È nato in una famiglia benestante insieme a due fratelli maggiori e nonostante in Egitto viva una vita abbastanza felice, appagante e di successo, i suoi genitori alla fine divorziano. Quando suo padre si risposa, Yasser e i suoi fratelli restano senza alcun sostegno economico, quindi in poche parole saranno costretti a farsi strada da soli nella vita. Dopo aver visto i suoi due fratelli maggiori che proprio a causa della mancanza di un sostegno economico da parte del padre emigrano in America e si costruiscono una vita di successo, Yasser decide esattamente di seguire le loro orme. Quindi si trasferisce in America con un visto studentesco, ma all'inizio del 1987 sta per scadere il periodo e quindi Yasser e i suoi fratelli si stanno avvicinando praticamente tutti ai 30 anni. Ed è qui che emerge il primo di molti dettagli scioccanti. Uno dei suoi fratelli, infatti, in quel periodo cerca di uscire con una quindicenne di nome Patricia Owens e quando lei respinge le sue avance, cioè quella praticamente di suo fratello, Yasser cerca comunque di conquistarla in modo piuttosto insistente e aggiungerei anche inquietante. Anche se giovanissima e appena quindicenne, Patricia cede alle avance di Yasser e questo porta ad una relazione tra i due e praticamente solo una settimana dopo aver iniziato a frequentarsi Yasser le chiede di sposarlo. Onestamente direi che ci sono già così tante bandierine rosse vista l'enorme differenza di età perché lei ha 15 anni e lui 30, ma in ogni caso, secondo la legge del Texas, il matrimonio tra i due si svolgerà senza nessun problema. Tutto ciò infatti di cui hanno solo bisogno è il consenso scritto da parte dei genitori di Patricia che a quanto pare sembrano averlo dato. E non so, amici, come possa essere possibile una cosa del genere, ma la famiglia di Patricia crede ed è convinta che Yasser sia il compagno giusto per lei. I due alla fine si sposano in una chiesa cristiana nel febbraio del 1987 e ora Yasser è determinato più che mai a iniziare a costruire con Patricia una famiglia e infatti quando lei ha appena 18 anni i due hanno già tre figli. Il figlio maggiore si chiama Islam, mentre le due figlie si chiamano Sara e Amina. Yasser a quel punto ha sulle spalle una famiglia e inizialmente per tirare su la baracca fa il tassista, ma avrà dei grossi problemi con i suoi datori di lavoro, tanto che le aziende nella sua zona si rifiutano proprio categoricamente di affittargli un taxi. I colleghi lo descrivono come un pazzo imprevedibile, è intrepido e non ha paura di lavorare nella zona del centro più turbolenta e di avere a che fare con gente poco raccomandabile e a questo punto decide, per evitare di avere problemi, di portare sempre con sé, mentre lavora, una pistola. Probabilmente non ci vorrà molto per indovinare, ma Yasser non è assolutamente un bravo uomo e sorpresa sorpresa non ci è voluto molto perché i problemi, ma molto grossi, apparissero anche all'interno della sua famiglia. Dato che Patricia si è sposata con lui all'età di 15 anni, quindi già da giovanissima, è intrappolata in una relazione tossica e nel frattempo Yasser inizia a mostrare la sua vera indole. Sentendosi inferiore ai suoi fratelli, che in quel momento hanno molto più successo di lui, inizia a lavorare duramente per portare il più possibile tanti soldi a casa. Ma dal punto di vista di Patricia, quindi sempre secondo lei, Yasser non guadagna mai abbastanza per permettergli di avere un buono stile di vita, diciamo uno stile di vita abbastanza agiato. Tra l'altro tutti sanno che il figlio maggiore, cioè Islam, è praticamente il figlio preferito di Yasser e gli permette addirittura di chiamare sua madre per nome, cioè di chiamarla Patricia e non mamma e viene trattato anche molto ma molto meglio rispetto alle sue due sorelle. I conoscenti infatti dicono tra l'altro che Yasser stesso e Islam si sentono superiori rispetto a sua moglie e alle sue figlie, tanto proprio da dirlo chiaramente e apertamente a tutti e di comandare la famiglia. E sempre secondo la sua famiglia Yasser è estremamente paranoico e si preoccupa sempre pensando di dover piacere a tutti, ma proprio a tutti i costi e per questo inizia a pensare che le persone in generale siano contro di lui, ma questo senza un apparente motivo direi. Queste convinzioni infondate lo portano a prendere il controllo nell'unico posto in cui si sente veramente di avere autorità, cioè all'interno della sua stessa casa. E l'insoddisfazione e la preoccupazione infondata di Yasser porterà a far vivere un vero e proprio inferno, sia alle sue figlie che a sua moglie. Non ci vuole molto che la tossicità della loro relazione porterà Patricia a raggiungere il limite e nel 1997 proprio per disperazione porta via con sé tutti e tre i suoi figli. Ma come tante relazioni tossiche e è molto triste dire proprio questa frase, cioè come tante relazioni tossiche, perché spesso purtroppo sono dinamiche che si ripetono e che abbiamo sentito in tantissime storie, Patricia non riesce a stare lontana da Yasser e nel marzo del 1998 tornano tutti insieme e lei accetta di tornare a vivere con suo marito in una casa diversa, questa volta a Covington. La situazione economica della famiglia, anche in questo caso dopo il trasferimento, non migliora. Yasser inizia a lavorare in un negozio locale e la famiglia vive in quel periodo proprio nella totale miseria. Alla fine del 1998 Patricia se ne va di nuovo per l'ennesima volta insieme ai suoi figli, ma questa volta con l'intervento dei servizi di protezione per l'infanzia e per un motivo direi estremamente preoccupante. Nei mesi infatti precedenti a questa segnalazione entrambe le figlie si confidano con la nonna dicendo che il loro padre Yasser ha abusato di loro nel peggiore dei modi possibili e ovviamente quando la nonna racconta questa cosa a Patricia lei si sente completamente devastata e anche si sente tremendamente in colpa per non essersi praticamente accorta di niente. E non so a questo punto come sia possibile ma Patricia anche dopo aver ascoltato queste confessioni estremamente preoccupanti e scioccanti da parte delle sue figlie sta già ripensando alla sua decisione di lasciare Yasser. Nonostante quello che le sue figlie le hanno confidato cioè una cosa gravissima Patricia finisce per non lasciare Yasser e le ragazze si sono quasi sentite in dovere di ritirare le loro accuse dicendo addirittura di aver mentito sugli abusi subiti da parte del loro padre e a questo punto penso che probabilmente entrambe le figlie siano state minacciate portandole quindi a ritirare le accuse contro Yasser. E l'anno dopo la cosa ancora più grave è che cadono tutte le accuse contro l'uomo e Patricia torna a braccia aperte da lui insieme ai loro figli. Di certo le cose come potete immaginare non migliorano perché Yasser a quel punto inizia a controllare ossessivamente sua moglie e le sue figlie sia dentro che fuori casa. Le sue figlie ovviamente crescendo iniziano a voler ottenere la loro indipendenza e quindi lavorare in un negozio locale e Yasser le pedina in macchina tenendo d'occhio quello che stanno facendo e addirittura si arrabbia quando le vede sorridere ai clienti. Patricia se ve lo state chiedendo no amici oltre che lasciarlo e tornare insieme a suo marito non farà nulla e non dirà nulla a Yasser e lui continua sia dentro che fuori casa con questi comportamenti ossessivi che vanno ben oltre il controllare se le figlie stessero bene. Amina e Sara sono terrorizzate e non parlano al telefono nemmeno con i loro amici preoccupate che il padre stesse ascoltando le loro conversazioni al telefono. Lui è sempre lì in agguato aspettando solo che commettano quello che per lui è un minimo errore. Per Yasser le sue figlie stanno diventando fin troppo occidentalizzate e spesso escono con i loro amici americani. Ma ora io mi chiedo se tu hai deciso di crescere la tua famiglia in America non pensi che sia normale che le tue figlie si facciano degli amici lì? Ecco, a quanto pare per Yasser no. Durante questo periodo poi tra l'altro Yamina si innamora di un ragazzo del posto di nome Joseph Murigno. Nel 2004 i due si incontrano a lezione di Taekwondo e lì la loro amicizia si trasforma presto in una relazione. Ma devono fare molta attenzione che ovviamente non ci sia Yasser in giro e questo Yamina lo fa notare ovviamente a Joseph. I due ragazzi imparano a scriversi dei messaggi in un certo modo quasi come se fossero dei messaggi criptici, ok? Facendo finta di essere solo amici per impedire a Yasser di arrabbiarsi. Amina inizia a scrivere varie mail e poesie durante tutto questo periodo dicendo quanto sia triste per la sua vita. È sempre più terrorizzata a paura di suo padre tanto che manda una mail a un suo insegnante al suo insegnante di storia e in quella mail dice lui senza alcun dubbio prima o poi ci ucciderà. Tra l'altro in un libro scolastico scritta su un foglio viene trovata una poesia scritta da Amina che recita Il mio cuore Le mie ferite aperte Lasciami volare Ti odio Odio la tua terra Hai congelato il mio cuore Lasciami morire Fammi un angelo Lasciami volare Lasciami andare Dove posso essere trovata Il mio dolore Non lo saprai mai Fammi una foglia Lasciami volare Tu non mi conosci E qui io Non ci voglio stare Ora parlando di altre grosse bandierine rosse I compagni di classe chiedono spesso ad Amina e sua sorella dei lividi che hanno sulle braccia E le ragazze dicono la verità perché quei lividi purtroppo gliel'ha procurato il padre Ma nessuno nessuno di loro farà mai nulla per aiutarle Visto poi che quella situazione inizia ovviamente ad andargli stretta Anche se sono ancora solo due adolescenti Amina e Joseph decidono di mettere in atto un piano per scappare insieme Anche se sanno che nella loro vita a questo punto sarebbero sempre stati in pericolo visti anche i costanti contatti di Yasser nel mondo criminale Oltre all'ossessione di continuare a controllare le sue figlie dentro e fuori casa Yasser inizia anche a rifiutarsi di lavorare a meno che le ragazze stessero dormendo a casa quindi nei loro letti o addirittura fossero controllate dal loro fratello Islam Yasser infatti ha piena fiducia in suo figlio a differenza invece delle sue cioè di Amina e di Sara E trovo assurda questa cosa ma Yasser ha persino manomesso l'auto di Amina sostituendo l'airbag con un dispositivo di registrazione in modo da poter monitorare tutto ciò che veniva detto addirittura all'interno della macchina e questa è una cosa estremamente pericolosa perché se sua figlia avesse mai fatto un incidente praticamente sarebbe morta probabilmente o si sarebbe fatta veramente molto ma molto male senza un airbag funzionante ma comunque andiamo avanti in quel periodo Amina è anche all'oscuro di una cosa molto ma molto grande perché suo padre ha già scelto un marito per lei in Egitto e ovviamente la ragazza rifiuta in modo categorico la proposta e questo fa infuriare completamente suo padre soprattutto perché Yasser avrebbe ricevuto una considerevole dote dallo sposo e lui addirittura sta progettando con quei soldi di migliorare tutta la sua vita e la sua situazione economica il fatto che Amina si sia completamente rifiutata di sposare l'uomo che le ha trovato suo padre ha fatto sì che Yasser vedesse proprio svanire davanti i suoi occhi una grossa opportunità per migliorare la sua situazione economica e le dice chiaramente di aver portato disonore alla famiglia infuriato Yasser inizia a guardare addirittura le bollette del telefono di sua figlia nel tentativo di scoprire cosa nasconda e che rifrequenta e nel natale del 2007 l'uomo ha persino minacciato Amina con la sua pistola facendo sì che sua moglie Patricia e le sue figlie ovvero Amina e Sara scappassero per l'ennesima volta ma questa anche con i loro rispettivi fidanzati sono scappate in Texas per stare con la loro zia in Kansas e una volta che la situazione pare essere apparentemente tranquilla si trasferiscono a Tulsa quello di cui le ragazze hanno davvero bisogno in questo momento è una madre forte è una madre che si preoccupi seriamente della loro sicurezza ma tristemente Patricia inizia di nuovo ad avere dei dubbi sul fatto di lasciare o meno Yasser a Capodanno la donna cerca di riportare le sue figlie di nuovo in Texas o nuovamente in quella casa che ormai è diventata un vero e proprio inferno Sara accetta a malincuore di tornare temporaneamente a casa ma Mina si rifiuta categoricamente suo padre ricordiamoci le ha puntato una pistola alla fronte cioè come può affidarsi di nuovo come può essere certa di vivere la vita che tanto desidera di essere finalmente libera ma alla fine Patricia in un modo o nell'altro convince anche Amina a tornare a casa e tragicamente amici questa sarebbe stata l'ultima volta che il suo fidanzato Joseph l'avrebbe vista viva arriviamo così al primo gennaio del 2008 il giorno di Capodanno il giorno in cui Yasser porta entrambe le sue figlie fuori con il suo taxi per fare un giro e pare addirittura che voglia fare pace con loro perché dice che vuole ricucire i rapporti cioè vuole essere un buon padre e le porta a mangiare qualcosa insieme ma come potete immaginare non è così perché Yasser è un vigliacco non so come altro definirlo e sta illudendo per l'ennesima volta le sue figlie ed ha in mente un piano scioccante durante questo viaggio alle 19.35 viene fatta una telefonata angosciante al dipartimento di polizia di Arvin nonostante il fatto che si tratti di una chiamata veramente preoccupante e terrificante la persona che ha fatto la chiamata ovvero Sara è stata messa in attesa più e più volte e le autorità non so come ma non sono riuscite ad individuare immediatamente un indirizzo o una posizione dal quale lei praticamente li stava chiamando quando le autorità dopo diverso tempo ormai trovano il taxi purtroppo entrambe le ragazze sono già morte per le ferite che hanno subito Amina è stata colpita due volte e Sara per un totale di nove e per quanto riguarda il loro padre Yasser beh non si trova proprio da nessuna parte la storia della morte di Amina e Sara è andata su tutti i notiziari e questo amici per due motivi molto ovvi non solo perché si tratta di due giovani adolescenti che hanno perso tragicamente la vita ma anche perché il principale sospettato che è il loro stesso padre ora è in fuga molti sin da subito hanno speculato che si trattasse di un cosiddetto omicidio d'onore ma le autorità fino a quel momento non si sono mai sbilanciate cioè non fanno trappelare nessuna notizia anche perché il loro principale sospettato è in fuga ma sempre più persone hanno iniziato a credere cioè credono che quello di Amina e Sara sia un omicidio d'onore soprattutto dopo che la vita personale della famiglia inizia a trapelare sui vari notiziari ora dovete sapere che nessuna religione sostiene o giustifica gli omicidi ma ci sono dei casi che definirei estremi in cui le persone commettono omicidi con la scusa di giustificare le loro azioni Yasser crede di essere stato spinto a uccidere entrambe le sue figlie per ripristinare l'onore della sua famiglia quando per essere onesti in tutto in realtà è solo un padre estremamente aggressivo e abusante dopo l'omicidio delle sue figlie e la scomparsa di suo marito Patricia pare essere più preoccupata per il fatto che Yasser non venga giudicato male dalle persone piuttosto che per la perdita di Sara e Amina cioè niente meno ricordiamocelo delle sue stesse figlie e Patricia ha fatto qualsiasi cosa per far sì che ai notiziari ma in generale tra le persone che ovviamente chiacchierano del caso non si colleghi il nome di Yasser alla criminalità organizzata con il passare del tempo Patricia e la famiglia di Yasser sono convinti della sua innocenza mentre tutti gli altri cioè le persone del posto sono estremamente sicure che sia lui il vero colpevole della morte delle sue stesse figlie questa loro convinzione porterà addirittura al funerale delle ragazze Islam cioè il fratello di Amina e Sara ad urlare contro uno degli ex fidanzati di Amina costringendolo ad andarsene addirittura se questo non bastasse lo incolpa per la loro morte e inizia a picchiarlo e questo ovviamente fa arrabbiare molti amici e quasi tutta la famiglia di Patricia Amina e Sara vengono inoltre sepolte in un cimitero musulmano anche se effettivamente entrambe le ragazze non sono mai state musulmane praticanti lo stesso Yasser è andato raramente in moschea ma Patricia sempre in una sorta di boh rispetto nei suoi confronti cioè rispetto nei confronti di suo marito sente che quello fosse il posto più appropriato per seppellire le sue figlie ma a questo punto della storia Yasser pare essere completamente sparito nel nulla e non si presenta nemmeno al funerale delle sue figlie visto che tecnicamente secondo i suoi familiari quelli di Patricia cioè diciamo parte dei familiari di Patricia pare essere innocente quindi la polizia a quel punto decide di interrogare tutti ma nessuno fornisce informazioni o prove su dove possa essere ed è assurdo che Yasser sia riuscito a sparare un totale di 11 colpi di pistola in una zona poi molto affollata senza essere visto praticamente da nessuno il che fa credere sin da subito agli agenti che possa essere stato aiutato da qualcuno della sua famiglia e probabilmente ha avuto addirittura bisogno del passaggio di qualcuno cioè di una persona che lo venisse a prendere considerando che le sue figlie sono morte dentro il suo stesso taxi e che a piedi non si sarebbe allontanato chissà quanto ma senza informazioni utili il caso di Amine e Sara diventa presto un cold case un caso freddo e l'FBI pensa a quel punto che Yasser sia fuggito dal paese tornando in Egitto per questo motivo viene ufficialmente inserito nella lista dei più ricercati dell'FBI e ci resterà ormai per diversi anni e per tutto questo tempo nessuno sa veramente cosa sia successo a Yasser l'FBI infatti crede a quel punto che uno dei suoi fratelli lo abbia coperto e gli abbia dato un passaggio proprio vicino alla scena del crimine ma purtroppo senza prove concrete non sono mai state presentate delle accuse ufficiali il figlio di Yasser invece poco dopo gli omicidi va in Egitto e lì manda decine ma decine di email denigratorie alla famiglia di Patricia che poi se ci pensiamo di fatto è la stessa famiglia di sua madre ribadendo sempre lo stesso messaggio dicendo che le sue sorelle sono morte a causa del loro stesso comportamento un comportamento che a quanto pare secondo Yasser e suo figlio pare assurdo infatti Islam scrive proprio queste parole cioè dice che le sue sorelle sono morte per colpa loro per colpa a quanto pare dei loro atteggiamenti ribelli tra l'altro il fatto che lui sia andato in Egitto cioè Islam sia andato in Egitto fa ulteriormente credere all'FBI che Yasser sia fuggito dal paese ma si scopre effettivamente che è molto ma molto più vicino di quanto pensassero la verità è che Yasser non ha mai nemmeno lasciato il Texas e si trova in un appartamento di proprietà di uno dei suoi fratelli e per ben nove anni cioè nove anni anche dopo essere stato inserito nella lista dei più ricercati dell'FBI lui ha vissuto lì senza destare alcun sospetto e questa cosa se ci pensiamo è assurda perché queste proprietà durante le indagini devono essere state in qualche modo collegate ai nomi dei fratelli di Yasser ma visto proprio che effettivamente non sono state collegate ad altri nomi cioè quindi a persone fittizie perché le proprietà sono intestate proprio a nome e cognome dei fratelli di Yasser e pare del tutto assurdo cioè che l'FBI non sia stata in grado di ricostruire un possibile punto di partenza delle indagini proprio dalle proprietà dei fratelli di Yasser ripeto visto che sono sempre rimaste a loro nome e cognome ma arriviamo così all'agosto del 2017 quando un operaio della manutenzione sta effettuando delle riparazioni su un'unità di condizionamento dell'aria all'interno proprio dello stesso blocco di appartamenti dove si trova quello di proprietà del fratello di Yasser ed è proprio in questo momento che con l'aiuto della lista dei più ricercati dell'FBI nota un uomo che pare somigliare completamente a Yasser così segnala immediatamente l'avvistamento all'autorità ma quando viene emesso il mandato di perquisizione Yasser pare essere completamente sparito nel nulla ma sotto il balcone dell'appartamento al secondo piano c'è un cespuglio e dentro quel cespuglio gli agenti trovano un paio di occhiali e decine di mozziconi di sigaretta ora l'FBI dopo tutti questi anni è ancora estremamente convinta che Islam cioè il fratello di Yasser sia collegato il caso di omicidio di Amina e Sara e addirittura che possa vivere in quell'appartamento insieme a suo padre ma sanno con certezza che Islam non è un fumatore al contrario invece di suo padre Yasser lo è gli agenti quindi sono stati in grado di dimostrare attraverso una tecnica innovativa nota come analisi del DNA familiare che quegli occhiali appartengono effettivamente a Yasser e dopo nove lunghi anni hanno finalmente la prova che Yasser si trovi ancora in Texas e che non è fuggito in Egitto al contrario invece di quanto hanno creduto fino a quel momento Yasser anche dopo questo avvistamento pare di nuovo essere sparito nel nulla ma tre anni dopo solo nel 2020 finalmente arriva una svolta cruciale vari rapporti dell'FBI suggeriscono che si sia nascosto in una piccola casa a Justin in Texas anche se non sono del tutto sicuri le persone del posto testimoniano dicendo all'FBI di essere certi di averlo visto proprio lì a Justin la casa si trova in una parte isolata della città e se Yasser a questo punto è davvero lì questa volta ha deciso di nascondersi molto meglio agli occhi indiscreti della gente dopo aver allestito una squadra di sorveglianza intorno alla proprietà gli agenti vedono sia Islam e Yasser entrare nella casa con del cibo e poi uscire con degli sacchi della spazzatura poi più tardi quella notte notano anche l'ombra di un terzo uomo muoversi all'interno della stessa proprietà ovviamente dopo aver visto chiaramente Yasser e suo figlio Islam gli agenti dell'FBI si sono preparati a fare irruzione nella proprietà il 26 agosto del 2020 trovano finalmente Yasser nascosto in quell'abitazione e pensate che dopo poco più di 12 anni in fuga lo hanno catturato Yasser suo figlio Islam e quel terzo uomo che non è altro che il fratello di Yasser Yassin vengono arrestati e ovviamente la storia fa di nuovo il giro di tutti i notiziari nazionali per la seconda volta il processo di Yasser e dei suoi due complici inizia due anni dopo nell'agosto del 2022 nonostante il Texas sia uno stato in cui presente la pena capitale come condanna non viene richiesta la pena di morte per Yasser la difesa dell'uomo sostiene che sia innocente ritenendo che la società è stata radicata nell'islamofobia dopo l'11 settembre che purtroppo tutti tristemente ricordiamo cos'è successo altri membri della sua famiglia durante il processo negano che si tratti di un omicidio d'onore affermando che se avesse ucciso le sue figlie lo avrebbe fatto semplicemente perché ha perso il controllo in quel momento ma Yasser continua a sostenere di essere innocente ed è assurdo che la sua famiglia lo sostenga anche da questo punto di vista cioè dicendo che se proprio lo avesse mai fatto è perché semplicemente ha perso il controllo dopo la frenetica chiamata al 911 di Sara che è stata registrata dopo ricordiamoci essere stata colpita nove volte la difesa di Yasser sostiene che la ragazza è confusa a causa delle sue ferite e che non avrebbe mai detto che suo padre l'ha uccisa ma c'è poco da fare per la difesa perché riascoltando proprio anche la registrazione ma non solo anche la trascrizione audio in cui c'è scritto chiaramente che Sara durante quella chiamata dice che suo padre l'aveva colpita purtroppo non possono fare molto durante il suo processo Patricia confessa che Yasser è stato violento sia con lei che con le sue figlie prima dell'omicidio ricordando anche un momento in cui le aveva minacciate con la pistola rivolgendosi a Yasser in tribunale sua cognata Connie McGeo testimonia al processo dicendo non c'è onore nell'uccidere due persone disarmate io signor giudice chiamo questo essere un codardo l'unica cosa che hai fatto alla tua famiglia è stata macchiarla con il sangue della tua stessa famiglia e ora è il tuo turno di ottenere quello che hai fatto di stare anche tu in prigione che potrai finalmente chiamare casa dopo solo tre ore di deliberazione Yasser è stato dichiarato colpevole di omicidio di primo grado e viene condannato all'ergastolo senza possibilità di libertà condizionale ed è stato incarcerato presso il dipartimento di giustizia penale del Texas dove si trova ancora e morirà proprio dietro le sbarre nel gennaio del 2021 Islam il figlio di Yasser si dichiara colpevole per aver nascosto un fuggitivo di cospirazione per nascondere un fuggitivo e un capo di cospirazione nell'ostacolare la giustizia ed è stato quindi condannato a dieci anni di prigione federale nel febbraio del 2021 invece il fratello di Yasser Yassin è stato dichiarato colpevole di cospirazione e di aver nascosto un fuggitivo quindi è stato condannato a dodici anni di prigione federale entrambi sia Islam che Yassin stanno scontando la pena insieme all'istituto federale di Mastarov ora pensandoci è assurdo che Yasser sia riuscito a rimanere nascosto per così tanto tempo e poi in una città così vicina rispetto a dove ha commesso entrambi gli omicidi essere nella lista dei più ricercati dell'FBI per un totale di 12 anni e rimanere latitanti non è una cosa da niente i crimini di Yasser rendono questo caso ancora più assurdo uccidere entrambe le tue figlie è veramente triste ma c'è che lo rende strano e assurdo è quanto sua moglie e suo figlio lo abbiano difeso in tutti questi anni il comportamento di Patricia durante tutto questo caso è inspiegabile ma dobbiamo ricordarci comunque che Yasser è sempre stato nei suoi confronti un uomo abusante e controllante cioè anche proprio con lei ecco il primo gennaio del 2008 Amina e Sara hanno perso la vita per mano del loro stesso padre Amina aveva solo 19 anni e Sara 18 e avevano ancora tutta la vita davanti e stavano cercando di crearsi una nuova vita lontano dal loro padre ossessivo e violento se ci pensiamo hanno sofferto per tutta la loro brevissima vita a causa di un uomo che le spiava le maltrattava cercava di mantenere il suo potere su ogni aspetto della loro esistenza e sebbene avessero una madre purtroppo devo dirvi la verità non è riuscita a fuggire da un uomo violento e controllante ed è impossibile amici negare che anche lei abbia sofferto comunque a causa di Yasser ma la dura realtà è però che ha fallito ogni singola volta che fuggiva da casa con le sue figlie perché purtroppo le costringeva sempre a tornare contro la loro volontà e anche dopo la loro morte il comportamento di Patrizia è stato secondo il mio parere terribile ha ostacolato tutti gli sforzi per trovare Yasser e si preoccupava più della sua immagine nonostante non sono mai state presentate delle accuse contro di lei in quasi ogni sua intervista che è presente su internet difende il suo ex marito per farla breve e diretta amici per concludere questa triste storia aveva ogni opportunità di salvare le sue figlie per farle fuggire il più lontano possibile e soprattutto una cosa fondamentale Patrizia aveva l'appoggio da parte di tutta la sua famiglia Amina e Sara hanno perso la vita per mano del loro padre e sono state deluse da chi ovviamente avrebbe dovuto proteggerle di più questi amici sono tutte le informazioni che sono riuscita a raccogliere per il caso di oggi mi raccomando sono proprio curiosa di sapere voi cosa ne pensate credete che Yasser sia ovviamente stato coperto a questo punto anche da sua moglie Patricia visto che è stato un po' assurdo che per ben 12 anni l'FBI non sia mai riuscito a catturarlo mi raccomando fatemelo sapere qui sotto con un commento grazie per aver visto questo video e mi raccomando non siate timidi lasciatemi pure qui sotto un commento per farmi sapere la vostra a presto amici e mi raccomando state al sicuro perché è proprio un mondo strano là fuori